Luca Cattini Revisore Buongiorno a tutti, appunto, sono Lorenzo Cantini e ho 22 anni. E... Ok. Scusate l'emozione. Io sono qui, vorrei raccontarvi la storia di una persona che ha deciso di crearsi un'opportunità, un'opportunità lavorativa, ma soprattutto una persona che ha creduto e ha dato alla foglia di fare, non soltanto mia, ma di tutte le persone che mi hanno dato mano, tra cui colleghi, ma anche la mia famiglia. Infatti, io sono il cofondatore, appunto, insieme a mio fratello, di una start-up di Firenze che realizza e progetta stampanti tridimensionali a basso costo ed open source. E, prima cosa, che cos'è una stampante tridimensionale e come funziona? Una stampante 3D è una macchina in grado di materializzare un oggetto. Infatti, si parte da un disegno 3D che può essere reperito su internet o può essere disegnato tramite un programma CAD e poi, tramite un software presente sul computer, lo si converte in un linguaggio che verrà poi elaborato dalla macchina stessa e la macchina, sciogliendo un filo di plastica, lo deposita strato su strato fino a realizzare un oggetto. Un po', sì, forse è un po' di magia, c'è anche questa tecnologia qua. Ma per spiegare ancora meglio come funziona una stampante tridimensionale, provate a immaginare di avere nelle vostre mani un ananas, di dividerla a fette e poi di ricostruire l'ananas mettendo una fetta sopra un'altra fetta. Ed è così che funziona una stampante tridimensionale. Ma quello che noi oggi facciamo non sarebbe stato possibile senza questo progetto, che è il progetto RepRap, che è un progetto open source nato in Inghilterra, che aveva come finalità la divulgazione delle conoscenze necessarie per la realizzazione appunto di una stampante tridimensionale a basso costo ed open source. E questo progetto è stato ideato da questo signore qua, il professore dell'Università di BAT, Adrian Boyer, il quale ipotizzò una macchina in continua evoluzione, nel senso in grado di evolversi, crescere, ma soprattutto anche in grado di replicare alcune delle componenti che la formavano. Infatti le stampanti 3D che noi produciamo hanno parti plastiche che vengono prodotte da altre stampanti 3D, macchine che creano altre macchine. Un po' la Terminator, se vogliamo vederla in questo modo. Ma il progetto RepRap, appunto, come ho detto all'inizio, era un progetto, o meglio, è ancora un progetto open source. E questo ha permesso in pochi anni di divulgarsi, di svilupparsi, di arricchirsi. Tant'è che noi stessi abbiamo dato il nostro contributo a questo progetto sviluppando un nostro modello di stampante tridimensionale che abbiamo nominato in onore di uno scienziato omonimo toscano, Galileo, che è un... Vengo da Firenze! Ma torniamo alla foto di famiglia. Appunto alcuni dei membri che formano Ken Strapper sono proprio dei miei familiari. E secondo me c'è un aspetto molto importante in questa foto, ma in senso in questo contesto. Ovvero tre generazioni di artigiani che lavorano insieme per creare qualcosa che è a metà tra il replicator di Star Trek e un prodotto artigianale. Perché, beh, e lo dico con molta gioia e con molta enfasi, ogni nostra stampante viene prodotta artigianalmente. Siamo noi che tagliamo i pezzi, li puliamo, li assembliamo. Insomma, è un prodotto artigianale al 100%. E questo è il modo in cui abbiamo lavorato finora, con mio fratello che si occupa delle componenti elettroniche, in fin dei conti è l'unico ingegnere elettronico che attualmente abbiamo. Poi c'è mio padre che si occupa delle parti meccaniche e c'è pure anche il nostro cugino, cugina e zio che ci danno una mano nell'assemblaggio delle stampanti. Ma non è finita qua. Abbiamo coinvolto pure nostro nonno, che con tanto di mascherina si occupa di rifinire le parti plastiche che compongono le stampanti. E nostro nonno ha 77 anni, aggiungerei suonati, e è sempre stato un artigiano. E secondo me è straordinario pensare al fatto che quando nostro nonno ha iniziato a lavorare da artigiano, a Firenze molto probabilmente vienano ancora delle botteghe artigiane. E oggi, a quella che viene definita da molti l'alba della terza rivoluzione industriale, i suoi nipoti stanno anch'essi lavorando da artigiani, o meglio, da artigiani tecnologici, in una parola, makers. Ma qualche tempo fa è successo qualcosa di interessante. All'auto di nostro nonno si era rotta una componente, questo gancetto che vedete, che teneva unita la cappelliera al portabagagli. E si tratta di un pezzo insignificante, se voi avete presente tutte le componenti che formano un'automobile. O meglio, insignificante fino a quando non si rompe. Perché non so quanti di voi sarebbero in grado di dirmi o di dire dove poter reperire questo pezzo di ricambio. E noi, dopo alcune ricerche, ancora non siamo in grado di dirlo. Ma quindi, secondo me, il discorso è tutt'altro che banale. E potremmo riassumerlo in una domanda. Che cosa succede quando le cose si rompono? Beh, secondo la nostra esperienza possono accadere tre cose. La prima è che vi sia da cambiare tutta la parte. La seconda è quella che piace a noi, ovvero il fai da te. In questo caso, potrebbe essere, se uno ha le competenze e le capacità di farlo, potrebbe ripararlo. Ma non sempre è così. E infatti il risultato, in molti casi, è diverso da quello che ci aspettiamo. La terza soluzione è che vi sia da sostituire tutta la parte. Ma questo discorso aveva veramente iniziato a interessarci. E quindi abbiamo deciso di compiere una piccola esplorazione del quotidiano. Ovvero, cioè, cercare tutti quegli oggetti che noi utilizziamo quotidianamente, ma che se si rompono, sono destinati ad essere gettati via. E abbiamo trovato un sacco di oggetti che possono avere lo stesso destino. E quindi ci siamo chiesti, ma forse la terza rivoluzione industriale può iniziare anche da qui. Ovvero, se noi fossimo in grado di riparare alcuni degli oggetti che utilizziamo quotidianamente, non saremmo forse più ricchi? Beh, alla fine il pezzo è stato disegnato, lo abbiamo stampato e abbiamo riparato l'auto di nostro nonno. Ma questo stesso pezzo, oggi, grazie a internet, potrebbe essere condiviso online, diffuso in qualsiasi parte del mondo e un altro utente che si trova ad affrontare lo stesso esatto problema potrebbe utilizzarlo e riparare la sua automobile. Ma associare la stampa, o meglio, la tecnologia di stampa tridimensionale solo all'idea di potersi riparare un oggetto sarebbe riduttivo. E infatti la stampa tridimensionale è una tecnologia incredibile, che ha un grandissimo potenziale. Perché? Ma perché permette di materializzare un'idea. Voi pensate a ciò che potete avere in mente e avere qualcosa che vi permette di realizzarlo. Quindi si tratta di materializzare un sogno, un'idea, una fantasia. E questo oggetto che ho in mano è un oggetto che è stato stampato. Ma è un giocattolo. Ma in realtà racchiude al suo interno qualcosa di più complesso. Infatti la macchina l'ha creato con una cavità al suo interno vuota e ora vi spiego il suo funzionamento. Eh, purtroppo non c'è grip. Ma questo è soltanto uno di tutti gli oggetti che si possono stampare. E vediamo alcuni degli oggetti che sono, a mio avviso, veramente belli e spettacolari. Per esempio abbiamo il caso di queste cuffie che sono state interamente stampate ad eccezione della parte elettrica. E quindi questo permette all'utente di poter customizzare, cioè personalizzare le proprie cuffie. Un oggetto che uno può utilizzare anche quotidianamente. Ma c'è un altro progetto molto interessante, che è questo progetto qua. Il progetto di un braccio robotico interamente stampato. E il suo creatore non soltanto ha messo a disposizione di tutti i file tridimensionali, ma anche le conoscenze e le istruzioni per poterlo assemblare. E così si è creata una community intorno a questo progetto che ha sviluppato, condiviso e creato nuove parti e nuove possibili applicazioni di questo braccio. Ma c'è un altro progetto che stiamo cercando di portare avanti da un po' di tempo ed è un progetto volto alla divulgazione della tecnologia di stampa tridimensionale all'interno degli istituti. Ci siamo stati chiamati dall'Istituto Tecnico di Catanzaro, Scalfaro, quindi da Firenze siamo partiti per Catanzaro, e siamo andati a presentare la nostra stampante tridimensionale. Nel giro di un quarto d'ora, nell'aula, c'erano circa 350 studenti che hanno accerchiato il mio fratello, cercando di capire come funzionava. E quindi ci siamo accorti di come questa tecnologia possa invogliare giovanimenti, studenti, ragazzi, ma studenti appunto, ragazzi, giovanimenti. Perché? Perché può dare la possibilità appunto di materializzare un'idea, di creare qualcosa che qualcuno ha nella sua testa, di poterlo toccare con mano. E infatti nel giro di una settimana il professor Talarico e la sua classe ha realizzato un progetto da stampare, che è il progetto di un Levitron, un dispositivo per la levitazione magnetica, in una settimana. Ma non è finita qua. Infatti siamo stati contattati anche da artigiani, designer, professionisti, studenti, e alcuni di questi designer hanno comprato una nostra stampante. E insieme a degli artigiani noti italiani hanno realizzato una mostra, in cui hanno utilizzato la nostra stampante per poter realizzare oggetti della mostra. E quando ci hanno chiamato a visionare quello che avevano fatto, noi ci siamo rimasti proprio di stucco, perché non credevamo che si potesse arrivare a stampare all'inizio, cioè con il nostro primo prototipo di macchina, degli oggetti del genere. È stata veramente una sorpresa incredibile, cioè siamo rimasti veramente a bocca aperta, perché poi gli oggetti avevano parti molto complesse, da porta candele, addirittura il ramo stesso di quel tronchetto di albero è stato interamente stampato. Incredibile. Ma quindi, ricapitolando e per concludere, siamo stati contattati da studenti, ingegneri, artigiani, e tutte quelle persone che sono venute poi a trovarci e che ci chiedevano, ma come si usa una stampante 3D? Che cosa si può fare con una stampante 3D? Noi ancora non abbiamo mai dato una risposta negativa, nel senso non ci è mai capitato di dire che questo oggetto non si può stampare. Anche perché sostanzialmente quando qualcuno ti chiede se si può fare o no, subito dopo si inizia a stampare. Grazie a tutti. Grazie. Applausi Grazie.